e stratega, la fa studiare ma fa anche in modo che lei si conquisti una fama, che tutti conoscano le sue capacità, che i professori che le fanno lezioni private siano i professori dell'università e con il loro appoggio chiede una laurea per la figlia, solo che la chiede in teologia la prima volta e quella domanda è rifiutata. Il bescovo dice di no, il cardino alle barpaniche dice no, però gli suggerisce tutto questo insieme di fattori, teologia no, trovate con filosofia.